Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della quattordicesima domenica del tempo ordinario a Noa è un brano tratto dal quattordicesimo, anzi dall'undicesimo capitolo del Vangelo di Matteo versetti dal venticinque al trenta. Il Signore Gesù ha ricevuto gli Apostoli che hanno terminato la loro missione e il loro tempo di andare ad annunciare il Regno di Dio e si rivolge a questo punto al Padre e lo benedice. Quanta benedizione, che rapporto unico, il Padre e il Figlio una sola cosa e noi c'è aperta questa figliolanza divina attraverso Gesù, il Figlio eterno, il Figlio per eccellenza e Gesù benedice il Padre e anche noi siamo chiamati a entrare in questa benedizione, e questo stupore e questo ringraziamento per il manifestarsi del volere di Dio che è salvezza. Com'è la nostra lode, la nostra benedizione verso Dio? È veramente spontanea e piena in questo tempo? Sappiamo leggere nella storia, nei fatti che ci accadono, sappiamo leggere nel tempo presente motivi di lode, motivi di benedizione da rivolgere al Padre? Oppure ce ne mancano in questo tempo? Oppure sentiamo che la nostra fede si è come fermata, che non ha questa vivacità? Ecco, e per cosa benedice Cristo il Padre? Perché la sua rivelazione viene accolta da coloro che sono piccoli. Mentre invece c'è, esiste una sapienza e un'intelligenza di questo mondo che è tale da non accogliere la rivelazione. Che significa? Che Dio ci vuole tutti ignoranti e punisce in un certo senso coloro che studiano troppo? Assolutamente no, non si sta parlando di questo. Evidentemente Gesù stesso è un maestro, Gesù stesso si presenta spesso come colui che dà un insegnamento autentico, che anzi è importante conoscere. Gesù stesso è la sapienza di Dio, la sapienza del Padre che si è incarnata. Ma si sta parlando qui di un'altra cosa, di come sta il nostro spirito di fronte alla parola di Dio. Quanto siamo davvero disposti ad ascoltarla? Così come c'erano state città che non si erano convertite, che non avevano accolto la buona notizia e il Vangelo di Gesù, così possiamo essere anche noi, che nella nostra autosufficienza, nella nostra ricerca di noi stessi e dei nostri progetti, nel non volerci aprire a un amore più grande, possiamo ritrovarci come fuori da questa rivelazione. È quello che il Signore ha da dirci ci può sembrare sempre superfluo quando non abbiamo questo atteggiamento giusto, quando abbiamo questa presunzione anche di noi stessi. Invece questa rivelazione raggiunge i piccoli. Quando la nostra vita ci mostra il suo lato di verità, per così dire, cioè che non possiamo sempre vincere, non va tutto come vogliamo noi e non sempre i nostri progetti si realizzano, forse possiamo avere una possibilità di avere una maggiore disponibilità ad aprirci al fatto che abbiamo bisogno di essere salvati, abbiamo bisogno di questa parola di Dio, abbiamo bisogno di essere raggiunti da questo annuncio di salvezza di Cristo. Come siamo miseri, ma non nel senso evangelico, come siamo contraddittori quando vogliamo essere cristiani, ma allo stesso tempo pretendere di sapere tutto del cristianesimo. Quando vogliamo essere cristiani, ma non vogliamo ascoltare nessuno che ci parli di Cristo, che ci annunci Lui. Come ci facciamo del male da soli quando noi pretendiamo di sapere tutto su Dio e di quello che ci dovrebbe dire o non dire, cosa dovrebbe permettere o non permettere. Invece quanto sono preziose, a volte quelle umiliazioni che noi disprezziamo, che possono piuttosto aprire il nostro cuore all'accoglienza della rivelazione di Cristo, perché Lui è mite, Lui è umile di cuore. Per questo vivere nell'umiltà, vivere nell'amitezza significa essere vicini al Signore, perché significa essere disposti ad accoglierlo. La Sacra Scrittura ci parla spesso dei piccoli, dei poveri. Anche l'Antico Testamento parla di questo resto di Israele che accoglie il Signore, la sua parola, a partire anche dalla considerazione illuminata dei propri fallimenti, delle proprie sconfitte. Poveri perché non hanno altra ricchezza che Dio, poveri perché hanno questa fiducia nel Signore. Ecco, questi piccoli, questi poveri, sono coloro che accolgono con gioia la buona notizia dell'amore di Dio, perché sanno che è la cosa più bella e più grande che possono avere. Il Signore Gesù ci chiama a questa piccolezza e povertà non perché ci vuole disprezzare, ma perché ci invita ad entrare in quella che è la nostra realtà, a non illuderci di essere diversi, a essere sovraumani. Ed è per questo che ci parla anche di stanchezza, di oppressione. Che percepiamo la stanchezza e l'oppressione non si fa molta fatica a crederlo, lo sperimentiamo continuamente. E che cosa ci dice Gesù sulla stanchezza, sull'oppressione? Che il rimedio è quello di non fare niente? Che il rimedio è quello di cercare di imporre per quanto più possibile il proprio concetto di vita piacevole e comoda? Evidentemente non è questo che ci propone nostro Signore Gesù Cristo, ma ci parla di andare da Lui, parlare con Lui, ascoltare Lui, ricevere Lui, entrare in comunicazione con Lui, condividere con Lui la preoccupazione per l'umiltà, per il bene dell'altro, per il servizio. Troveremo questo riposo dal vivere la sua volontà. È vero, a volte gli insegnamenti del Signore ci possono sembrare pesanti. Anche l'Antico Testamento ci parla come di un gioco che viene dalla disciplina che deriva dall'osservanza dei comandamenti. Eppure già nell'Antico Testamento questa disciplina dell'osservanza dei comandamenti veniva definita come apparentemente come dei ceppi nei quali mettere le proprie mani, ma che si trasformano in monili, che in realtà sono preziosi, perché hanno a che vedere con la realizzazione vera dell'autenticità umana. Ecco, anche per noi mettere in pratica i comandamenti del Signore, aprirci alle esigenze del Vangelo, prendere davvero fino in fondo, assumere su di noi le conseguenze di Cristo e del suo annuncio di salvezza, a volte ci può sembrare fin troppo pesante. Ed allora il Signore ci chiama a considerare una cosa, che in realtà pesante è vivere secondo noi stessi, vivere sottoponendo tutto e tutti al nostro programma, vivere condizionati dalla nostra amarezza o dal bisogno di rivalza verso quelle umiliazioni che non riusciamo ad accettare per orgoglio. È pesante vivere nel peccato, vivere schiavizzati dal proprio desiderio di piacere e di soddisfazione in senso individualistico, vivere solo per se stessi, questo sì che è pesante. E invece il Signore ci parla di un riposo in Lui, che non è pigrizia, ma è un'attività vera, è una vita vissuta e spesa nell'amore del Signore, è una vita vissuta nella leggerezza per così dire, passatemi il termine, del potersi fidare, affidare veramente a Lui. Ne abbiamo davvero bisogno. Apriamoci alla bellezza, alla grandezza del Signore, Lui il Maestro, che ci insegna qual è la sapienza della vita, che ci insegna dov'è e qual'è l'autentico riposo dell'anima.